Buonasera, buon viaggio da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini. In A11 la Firenze-Pisa ha un veicolo in avaria tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. E sempre in direzione Pisa, code tra la barriera di Firenze-Ovest e Prato Est. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra l'allacciamento A1, Firenze-Scandicella, Strassigna in direzione di Livorno. Sulla 12 personale su strada tra Livorno-Stagno e l'allacciamento con la Fipili in direzione di Livorno. Ci spostiamo in A1, code per traffico intenso a Firenze-Sud in uscita provenendo da Bologna. Ricordo che domani è in programma uno sciopero generale dei lavoratori del settore del trasporto, sia pubblici che privati, disagi che interesseranno treni, aerei, bus e tram. Per la tramvia sarà garantito il servizio dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze dopo.